Mmm, come posso fare per rubare il gioiello alla regina? Ciao, io sono il cacciatore di tombe FRRS. Oggi vi invito a guardare questo video che si titola il cacciatore di tombe. Godetevelo! Cesare, è un vero piacere averti qui in Egitto. Oh, mia cara Cleopatra, per me è un onore venire da te. Ho trovato! Un attimo solo. Che rosè, il mio adorato visire. Potresti andare a controllare le tasse? È da un po' che non le guardo. Sì, mia signora. Ottimo. Fermo, dove sei? Non ti muovere. Ah, tu chi sei? Io sono Ferreres, il perfido ladro di tombe. Oh no, devo chiamare le guardie. Guardie! Oh no, tu non lo farai. Bene, ora si entra in scena. Peso è questo tizio. Ma quanto mangia? Secondo me è meglio. Mi sento così potente con questo vestito. È meglio. Cesare, sai prendere una mela con la bocca? No, ma era mia. La mangio io. Ah, dai. Sono tornato, mia regina. Di già, che rosè, stavolta sei stato velocissimo. Oh sì, mia regina. E ti si sono allungati i capelli. E i capelli non faccio a caso. Beh, continuiamo a giocare. Dai, la mela è mia. Prova a prenderla con la bocca se è tua. Acclopata sei sempre la solita spiritosa. Finalmente, la mia mela. Non è tua, è di tutti e due. Vabbè. Sì, ora la corona è mia. Eh? Cesare, ho perso la corona. Guarda, ce l'ha che rosè. Oh oh, meglio scappare. Ma quello non è che rosè. Quello è il ladro di tombe. Che rosè non ha mai rubato qualcosa in vita sua. Hai ragione. Guardie! Allia! Che succede, clopatra? Quel tizio laggiù mi ha rubato la corona. Ehi, ragazzi, inseguiamolo presto. Sarà meglio rimettersi i vestiti di prima. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Forza, avanziamo. Oh, scusi. Signora, chio patra. Jimmy, fai sempre cadere tutto. Jimmy, avanza subito e cerchi di non inciampare più su niente. La corona l'ha lasciata qui. Ma quello è il visir? Ah, ridatemi subito quella corona. Portate il visir qui e acciuffate quel cavolo di un ladro. Vieni subito qui, ladro. Ah! Presto, Jimmy, spara. Sì. Hop, hop. Hop, hop. Jimmy, hai colpito la piramide. Già. Hai una pessima mira. Ragazzi, non ci ho fatto apposta. L'ha saltato. Ah, come faccio? Devo assolutamente seminarli. Oh, una piramide. Potrei nascondermi qui e rubare qualche tesorino. Peccato che qui di sotto c'è una guardia. Jimmy, no, Jimmy. Jimmy, Jimmy. Cos'è questo baccano? Sarà meglio che vada a controllare. Spero che Jimmy non abbia combinato un altro guaio. La guardia se n'è andata. Perfetto. È il momento di scendere ed entrare. È il momento di entrare. Prendo il mio bastone. Ed entriamo. Sono entrato. Vediamo cosa c'è sopra queste scale. Ah, sono caduto. Qui si scivola. Cavolo, qui è molto buio. Sarà meglio che accenda qualcosa. Oh, un piccolo focherello. Sarà meglio che accenda il mio bastone. Grandioso. Ora vediamo che c'è scritto sul muro. Oh, c'è scritto qualcosa. Chi disturberà il sonno della mummia del faraone la pagherà cara. Sì, e chi ci crede? Vediamo se c'è scritto un modo per entrare nel passaggio del faraone. Aspetta, ma questa... Dove sono andata? È sempre stabile! Scusa. Ma dove cavolo sono finito? Devo essere finito in una trappola. Accidenti. L'unica cosa colorata che c'è qui è quella roba là. Hmm. Quel faraone sembra il segno che... Là ci sia la camera funeraria. Vediamo dove potrei trovare un pulsante per entrare. Beh, intanto schiacciare un pisolino. Ah! Ma che cos'è? Dai, sei sicuro di non volerne ancora un po'? Dai, è buona! Uno scheletro che parla! Oh, Alfred! Guarda, sono venuti a trovarci! Oh no, il portellino si sta chiudendo! Accidenti, ora come esco da qui? Stiamo sempre insieme! Come? No. Ti va un po' d'acqua? Sì! Ma perché un po' gialla? L'ho condita con la sabbia! No, allora non la prendo, grazie. Dimmi almeno come si esce da qui. Oh, io la so! Vedi, lassù c'è una botola. Aha. Salici e vedrai che sarai libero. Io di solito lo uso per andare a prendere una boccata d'aria. Grazie mille, signor scheletro. Ah! 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 Uh! Ce l'ho fatta! Ah! Mi sono anche liberato di quello scheletro. Sicuro di non volerne ancora un po' d'acqua? Ah! Vattene! Ah! Ma io chiuderla! Così almeno mi libererò di questo scheletro una volta per tutte. Mmm! Ma cosa? È molto strano che ci sia una mattonella blu. Forse un pulsante. Non si scaccia ma si sposta. Proverò a spostarlo. Ah! Ma cos'è? Che entrata? Non me l'aspettavo. Deve... Uh! Una scheletro. Chissà a cosa porta. Vediamo cosa c'è qui sotto. Ho trovato la camera funeraria! Evviva! Che forza! Che forza! Ma è meraviglioso! Ma quanti bracciali! Wow! Così sembro proprio un vero re! E c'è anche una collana! Forte! Così sembro un metal! 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 Che bella fascetta dorata! Metterò pure quella! Addio brutta vendana sporca! Eh beh... Ebbè... Vendana sporca! Quanti oggetti! C'è di tutto qui! Addirittura... Il... Vastone ricurvo! E il flagello! Non ci credo! Ma come posso portarli? Non posso tenere tutto in mano! Mi serve... Un cesto! Ah! Ma non ci sta tutto nel cesto! Posso usare quello lì! Che se ne importa dei vasi canopi? È il momento di riempirlo con i tesori! Qualche uretta dopo! Adesso manca solo questo profumo! Però si sente puzza di qualcosa! Non viene dai vasi canopi! Ah! Viene da me! Ed è un po' che non mi lavo! Mi metterò questo profumo nelle ascelle! Uno e due! Ottimo! Ora prendiamo anche una bella lampada dorata! Oh! Si è spostata la lampada! Che strano! Clic! Beh non importa! Intanto porto i tesori fuori! Ah che fatica! Sarà mai che mi riposi un po'! Clic! Oh! Di nuovo col clic! E stavolta sembra provenire da questa crepa! E è anche più aperta di prima! Vediamo se si apre! Ah! Il sarcofago! Sì! Ma a me interessano più i tesori! Che c'è scritto su quel teschio? Schiacciami! Ah! Lo faccio anche i chiudi! È così balare che abbiano scritto su un teschio schiacciami! Beh lo schiacciami dovrebbe succedere qualcosa ora? No! Il sarcofago si è mosso! Adesso si è addirittura aperto! Ma che? La momia si sta alzando! Come è esatto! Tu hai disturbato il mio sonno! Mi scusi! Volevo solo... Basta spiegazioni! Il momento che tu la pagherai! Tu sei solo uno scheletro! Come farai a fermarmi? Non sono uno scheletro! Semplice! Io sono... Il faraone! E quel cosi dove l'hai presi? E ora... Tu la pagherai cara! Come ti sei trasformato così? Lascia stare! Vai! Ora tu vattene io non ti farò niente! Ok ok me ne vado! Lascia gioielli qui me ne vado! Bravo! Lascia gioielli qui! E ora la maledizione si diffonderà su di te! Aaaaaah! Aaaaaah! Non voglio morire! Aaaaaah! Aaaaaah! E tu chi sei? Come sei entrato lì? Lo sai che è proibito? Ti porterò in prigione! Partimi in prigione! Almeno è meglio di stare lì dentro! E ora oggetti! Tornate al vostro posto! E io tornerò a riposare! Cosa? Spero che il video ti sia piaciuto!